Il segno di attenzione per una comunità che cresce, una comunità che attraverso la Proloco, che è un'istituzione che ha sempre collaborato con l'amministrazione, ha fatto un salto di qualità enorme. Anche con la nuova presidenza, Maria Antonietta Pugliese, stiamo dimostrando di avere un'idea molto chiara di sviluppo del territorio, un sviluppo che parte dalla valorizzazione del borgo. Certi che quello lì sarà un successo per la città in termini turistici. Il mare è una risorsa, ma non è solo quello il bene che tropea, la bellezza, l'emozione che tropea può dare a chi la sceglie come meta per le proprie vacanze. Quindi noi stiamo puntando molto sulla riorganizzazione della città in chiave di turismo lento e di valorizzazione del borgo.